La storia delle cose Ci farà tornare sui nostri passi Ha portato il nostro Stato al fallimento E adesso vuole diventare il vostro senatore Alzatevi, di no Alzati e di no Male per te, male per l'America Vota per lui, vota per questo, vota per quello Non sei stanco di questa roba? Perché ad ogni periodo di elezioni Diventa impossibile sentire dei fatti Oltre tutti questi annunci ingarnevoli E se sembra che il problema stia solo peggiorando È perché è così Possiamo ringraziare la Corte Suprema per questo Nel 2010 Decisero che le società possono spendere Quanti soldi vogliono per dirci chi votare Aspetta Ma perché le società ci dicono per chi votare? Chiariamo bene una cosa Questa è una democrazia? Sai potere al popolo Io sono una persona Tu sei una persona E Chevron non è una persona Quindi le elezioni non dovrebbero riguardare Ciò che il popolo vuole? Buoni posti di lavoro Prodotti sicuri Salute Governo responsabile Aria e acqua pulite Viene fuori che la grande maggioranza di americani Vuole che venga fatto molto di più riguardo a tutte queste cose Ma ciò che il popolo vuole sarà ignorato Finché le società potranno spendere milioni per fare eleggere i legislatori Le compagnie di petrolio hanno portato i politici a bloccare quelle leggi che proteggono l'ambiente Le industrie hanno spinto per accordi commerciali che inficiano la sicurezza dei prodotti e avvantaggiano lo spostamento delle aziende all'estero Le compagnie assicurative sono state le prime ad essere consultate sulla riforma sanitaria E i colossi industriali hanno ottenuto salvataggi e sussidi Magari ecco perché tutte queste diverse persone Repubblicane, democratici, indipendenti Sono completamente frustrate dal nostro governo E' facile arrabbiarsi Ma è il momento per noi di aprire gli occhi E capire che il nocciolo del nostro problema Non è che abbiamo cattivi legislatori Abbiamo una democrazia in crisi L'85% degli americani sente che le società hanno troppo potere nella nostra democrazia E il popolo troppo poco 85% Ehi, ma è la maggioranza Allora andiamo insieme a riprenderci la nostra democrazia dalle mani delle società E' il primo e più importante passo per realizzare un vero progresso In tutte quelle questioni a cui il popolo tiene di più Ma innanzitutto come ha fatto il popolo a perdere il controllo della nostra democrazia? Andiamo indietro di qualche secolo Prima c'erano solo le persone Alcune di loro avevano degli affari Alcune lavoravano per affari Comunque erano solo persone Poi le persone inventarono qualcosa di completamente nuovo Le società Queste entità legali esistono indipendentemente dalle persone che le posseggono Se una società fa qualcosa che la mette nei guai Gli stessi proprietari possono dire Non prendertela con me ma prenditela con la società Io sono solo un azionista All'inizio della storia americana Le società erano più semplici da gestire A quel tempo il governo avrebbe concesso loro statuti ufficiali Per un determinato progetto a breve termine Come ad esempio la costruzione di un ponte o di una ferrovia Una volta raggiunto l'obiettivo Queste società venivano sciolte Ma col tempo la conclusione del progetto Non corrispose più allo scioglimento delle società Esse iniziarono a vivere a tempo indeterminato Con profitti ed obiettivi molto più estesi Ecco come nacquero le multinazionali Le società moderne si sono evolute facendo leva su un criterio base Nel loro processo evolutivo Diversamente dalle persone Che sono mosse da ogni tipo di motivazione Fare la cosa giusta L'amore per la famiglia Per il paese Per il benessere del pianeta Alle società viene espressamente richiesto Dalla legge e dai mercati Di seguire un unico obiettivo Di avere un'unica motivazione Massimizzare i guadagni degli azionisti Fare più soldi possibile Punto No davvero, questo è quello che le leggi e i mercati impongono Immaginate un amico che dice L'unica cosa che mi interessa sono i soldi Non è esattamente qualcuno a cui lasceresti i tuoi figli O la tua democrazia Sì, sono le persone che gestiscono queste società Ma la questione filantropica non è la priorità Se non mettessero al primo posto i profitti Sarebbero fuori Ma gli amministratori delle società Potrebbero fare delle cose positive Come fare beneficenza O cercare di essere più ecologici Certo Purché non incida sui profitti Ora, rispetto alle loro umili origini Le società sono enormemente cresciute 53 delle 100 economie sulla terra Sono adesso società Quindi le società hanno come loro principale obiettivo Il profitto E di loro proprietari Possono facilmente non ritenersi responsabili Di qualunque danno provochino Ciò rende un po' arduo considerarli come persone con cui convivere Se noi vogliamo che loro ci servano E non il contrario Bisogna dare loro qualche regola base Ed ecco dove entra in gioco il governo Che crea regole per fare andare le cose per il verso giusto Ed evitare che le società prendano il sopravvento Ora, se il loro principale obiettivo è il profitto Pensate che le società siano contente di rispettare regole che le controllano? No, certo che no Vogliono essere loro a scrivere quelle regole Ma in una democrazia Chi dovrebbe scrivere le leggi? I cittadini Ecco perché una delle strategie principali delle società Per entrare nella nostra democrazia E dire che anche loro dovrebbero godere dei diritti del primo emendamento Come le persone fisiche E' proprio con questo che hanno vinto nel 2010 Quella causa conosciuta come cittadini uniti Contro la Commissione elettorale federale In quel caso 5 membri della Corte Suprema Decisero che è incostituzionale limitare i soldi Che le società possono spendere per influenzare le elezioni Perché? Loro sostennero che questi limiti Violano il primo emendamento che garantisce la libertà di parola Ovvio che i legislatori che scrissero il primo emendamento Stavano cercando di proteggere la libertà di parola delle persone Ma questa decisione si basa sulla folle teoria che le società dovrebbero essere trattate E avere gli stessi diritti delle persone reali Questo significa che le società possono spendere quanto vogliono Ogni qualvolta desiderano intimidire o stroncare i candidati che agiscono contro i loro interessi E favorire i candidati che faranno ciò che vogliono loro Bella notizia per le società che vogliono scegliere con cura i deputati che devono favorirli Ora, io sono chiaramente per la libertà di parola Se un impiegato azionista di Exxon vuole dare il proprio personale supporto a qualche lobbista petrolifero Che si candida al Senato è un suo diritto Ci sono milioni di altre persone che appoggeranno un candidato diverso Questa democrazia è in atto Ma ora Exxon o qualunque altra società può decidere di spendere una quantità illimitata di dollari Dalle proprie enormi tasche per influenzare un'elezione Senza nemmeno consultare i propri azionisti Questo è un bel problema Se le maggiori 100 società decidessero di mettere dentro appena l'1% dei profitti Potrebbero accaparrarsi ogni candidato a Presidenza, Camera e Senato insieme Quindi aver aperto le dighe sul fiume di questi soldi davvero ha provocato un'alluvione? Mi sa di sì Nel 2010 le tipologie di gruppi indipendenti che le società possono adesso supportare Hanno speso 300 milioni di dollari Questa è la spesa più grande che si sia fatta per un'elezione a medio termine dal 1990 Quindi le società stanno sopprimendo le nostre voci Prendendo ciò che vogliono e mettendo in pericolo la nostra democrazia Ma possiamo risolvere tutto La gente è stata talmente offesa dalla decisione della Corte Che sta cercando di mobilizzarsi con una risposta comune Un problema così grande ha bisogno di una grande soluzione E noi ne abbiamo una Un nuovo emendamento costituzionale, intelligente e chiaro Che ribalta questo assalto alla nostra democrazia Chiarendo che il primo emendamento non è concepito per delle società pro-profit Capisco che emendare la Costituzione è un obiettivo ambizioso Ma non è impossibile Ogni volta che è stato fatto un cambiamento grande e positivo in questo paese Perché la gente sognava in grande, puntava in alto e si proponeva degli obiettivi alti E' ora di farlo adesso, poiché la vita della nostra democrazia è in pericolo Il finanziamento pubblico delle campagne elettorali sarebbe un altro grande passo avanti Il congresso sta facendo in modo che i candidati vengano eletti senza usare soldi delle aziende Ricordiamoci, l'85% degli americani pensa che le società influenzino troppo la nostra democrazia Possiamo cambiare se trasformiamo questo sentimento in azione Attenzione, le società non usciranno dalla nostra democrazia finché non centreremo dentro noi Quindi continuiamo a combattere per l'energia rinnovabile, l'ecologia, la sanità, la pubblica istruzione e i prodotti sicuri Ma salviamo un po' di energia per la battaglia della nostra vita Una battaglia che può aprire la porta per risolvere tanto altro ancora E' tempo di rimettere la società al loro posto e rimettere le persone alla guida della nostra democrazia